Però per i familiari diventa una cosa molto interessante. Una Pasqua in sella, rigenerando il fisico, sorprendendo la vista e meravigliando il palato. Torna dall'8 al 14 aprile la settimana cicloturistica di Gabicce Mare, giunta ormai alla 41esima edizione e organizzata dal gruppo albergatori multiservizi presieduto da Angelo Serra. Sette giorni alla scoperta del magnifico introterra marchigiano, con altrettanti uscite in bicicletta. Questo è un evento per Gabicce Mare molto storico. 41 anni fa un gruppetto di albergatori hanno cominciato a accompagnare i propri turisti, a vederli introterra, a fare la solita gita, magari scampagnata, con un piccolo ristoro. E da lì è nata la storia della settimana cicloturistica. Era la necessità di sviluppare il turismo di bassa stagione. Una volta Gabicce fino al 20 maggio non apriva nessuno. Ebbene, quest'anno ci sono 25 alberghi aperti e sono quasi tutti pieni. Il fascino di Gabicce, delle Marche e dell'entroterra, quello ce l'abbiamo solo noi. Segna l'inizio della stagione turistica, valorizzando anche il Parco del San Bartolo, che è una delle eccellenze assolute del nostro territorio. Sono tanti, appunto, in questa settimana, gli appuntamenti in giro per la provincia di Peso d'Urbino, valorizzando quindi i borghi, valorizzando la gastronomia, perché in ogni località poi ci sono anche degli appuntamenti con le Proloco, con i comitati cittadini che sostengono questa iniziativa. La GAM e l'associazione albergatori dimostrano di stare sul pezzo, di lavorare concretamente, ad altri lasciamo le chiacchiere. Sette le meravigliose uscite fuori porta, programmate per i partecipanti. Si percorreranno dai 46 ai 90 chilometri, con sosta in cui sarà possibile gustare i tanti prodotti tipici dell'entroterra. Le tappe sono Monte Labbate, Gallo di Petriano, Valle Foglia, Monte Calvo in Foglia. Queste sono le tappe dove poi noi abbiamo organizzato anche i vari pranzi e le degustazioni molto importanti. Dicevo appunto il Parco Naturale del Monte San Bartolo perché dà quel fascino e dà quel senso di sportività che altre tappe magari non danno perché sente un po' il sapore della competizione. Diciamo che l'abbiamo studiato in un modo che il cicloturista italiano e straniero sicuramente ritornerà anche durante l'estate. Con oggi parte veramente la stagione, speriamo che sia una settimana buona. Abbiamo anche un importante torneo di calcio sul territorio, quindi ospitiamo in diverse strutture ricettive anche gli ospiti di un torneo di basket che coinvolge soprattutto la città pesarese. La città si è risvegliata, si è risvegliata e pronta per una grandissima stagione e quindi ci auguriamo tutti che vada per il meglio. Bicicletta e non solo, in programma tre serate caratterizzate da interessanti riunioni tecniche con l'intervento di esperti, fisioterapisti, massaggiatori e nutrizionisti. Grande attenzione sulla prima serata, in programma martedì 11 aprile, dove si affronterà l'argomento legato alla sicurezza stradale sottolineando il rapporto conflittuale tra ciclista e automobilista. Un po' la novità di quest'anno, c'è sempre stata in realtà la sicurezza grazie alla scorta della polizia stradale. Soprattutto negli ultimi anni c'è stata la riscoperta sia del spostarsi con le biciclette o con altri mezzi sostenibili, però le nostre strade non sono adatte per questi mezzi. Quindi cercheremo di confrontarci con la polizia stradale, con la fondazione Scarponi e con i politici del nostro territorio per parlare delle nuove idee e proposte per le strade e le vie partendo dalla ciclovia adriatica e tutti i percorsi che man mano i comuni stanno realizzando.